PIZZA E PRUST Per Proust fu la Madeleine bagnata nel tè, quel che per me è questa pizza gelata. Un solo morso mi ha catapultata nel mio diletto tempo perduto, testè, e mi ritrovo tra le pareti spesse dell'edificio Prisco, dove io, ragazza, ho appreso nozioni ancora oggi impresse nella mente e nel cuore. Che impazza! Nell'intervallo bastavano mille lire per una pizza dura da digerire, ma ogni ansia capace di lenire. Nell'intervallo bastavano mille lire per una pizza dura da digerire per una pizza dura da digerire.